Grazie Grazie E' bellissima questa giornata oggi perché il buon inizio d'anno ve lo danno anche per gli altri professori molto importanti che fanno tanto per le scuole Vi presento, allora è un assessore grazie a Baracchi Ciao 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 un po' come la prestigia di tutta la città e come la prestigia ha degli aiuti anziani della scuola che sono dei segnati, dei collaboratori, della profa della segreteria, sono tutte espressioni importanti anche insieme a delle persone intorno a lui che lo aiutano a guidare la città. Io mi occupo principalmente della scuola e anche di scuola, dunque le cose che sicuramente sono importanti per voi. Abbiamo scelto di essere qua il primo giorno di scuola per salutarvi, darvi un buon anno scolastico, diremo a voi, alle vostre maestre, perché la scuola è importantissima anche nei giorni in cui, qui a parte, insomma, sembra un pochino più noioso, pietato, ma le vostre maestre sono davantissime, anche come hanno allestito bene la vostra scuola, l'hanno uscita a testa per accoglierti, per rendere questo anno veramente bello e ricco di tante cose che vi faranno crescere, crescere insieme, insieme a tutti. Vediamo una cosa. Siete tutti contenti di iniziare? Sìììììììììììììì. Vedete? E' già un'applauso a questa signora. Grazie. Grazie. Con tutte le scuole queste non le abbiamo merci anche noi, siamo molto contenti. Quindi ci impegneremo tantissimo, eh, per cui lei mi chiederà come stanno i ragazzi della configurazione. io dirò, solo per tassi eh, sì perché con la vostra attrezza noi ci sentiamo spesso perché lavoriamo veramente insieme eh sì posso chiedere una fiction per la tv? facciamo i seri contenti di tornare a scuola per il giorno sì che lo registro che sarà arrivata tardi facciamo facciamo buona la seconda allora allora siamo più contenti di rientrare? sì manteniamo questo entusiasmo tutti i giorni? sì e noi iniziato vi torneremo anche a trovare va bene? grazie 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 grazie